Lasciare una città al buio non faceva che mettere dolore su dolore. Con queste parole l'assessore alla cultura e gli eventi di Torre del Greco Enrico Pensati risponde alla bufera mediatica nata dopo l'annuncio di fondi investiti dall'amministrazione comunale per gli eventi natalizi e per l'accensione delle luminari, nonostante la crisi economica che il paese sta affrontando a causa della pandemia. Non mi sottrago a quella che è la polemica relativa prevalentemente all'accensione delle luminarie. Mi corre l'obbligo a precisare che non è una delibera proposta da chi vi parla, ma chiarito ciò, solo per non togliere merito al proponente. Chiaramente è una delibera che personalmente come giunta sosteniamo fortemente perché non possiamo non tener conto di quelle che sono le fasce maggiormente colpite da questa pandemia, da questa emergenza legata al coronavirus. Il Natale è prevalentemente la festa dei bambini e gli anziani vivono delle difficoltà legate soprattutto alla solitudine del loro stato, quindi lasciare una città al buio francamente a mio avviso era assolutamente sbagliato e non faceva altro che mettere dolore su dolore, quindi per quanto mi riguarda benvengono anche le luminarie. Pronta una spesa di 250 mila euro per le luminarie e 75 mila per la programmazione degli eventi natalizi. Abbiamo l'obbligo come comune di programmare delle attività. L'anno scorso abbiamo avuto una mostra particolarmente rilevante nella nostra città fatta a Palazzo Baronale che ha richiamato migliaia e migliaia di visitatori. L'intenzione quest'anno è provare a riproporla, quindi mettendo in risalto quello che è l'artigianato locale, il corallo, il cammeo, chiaramente non potendola fare in presenza, proveremo a farla in maniera virtuale e in 3D con delle visite guidate dove ogni cittadino potrà da casa ammirare questa mostra. Sono delle iniziative in itinere che proveremo a mettere in campo ma che non hanno sicuramente dei costi esorbitanti. Oltre le luminarie e gli eventi natalizi, il comune ha pensato alle categorie più colpite dalla pandemia? Infatti io penso che se c'è stato forse errore da parte dell'amministrazione comunale è quella di non aver comunicato tutto quello che si è messo in cantiere. Perché si è parlato tanto delle famose luminarie, non si è vista che nella stessa variazione di bilancio c'è un fondo cospicuo di 100 mila euro che vanno alle categorie sociali più disagiate con i sei basse. Contiamo già entro fine mese di dicembre di aver consegnato i cosiddetti voucher alimentari. Un impegno portato avanti dall'assessorato alle politiche sociali che anche questo abbiamo condiviso di comune accordo. C'è un centro, una consulta che verrà attivata per il sostegno anche psicologico a favore degli anziani e tutta una serie di iniziative. Chiaramente tutto quello che non verrà speso dagli altri sottori, quindi vi compreso l'assessorato eventi e cultura che non spenderà la cifra che ha assegnato in bilancio, verranno su indicazione del sindaco, assegnato alle politiche sociali, quindi proprio per andare incontro alle categorie disagiate. Previsti quindi dei fondi speciali per la riqualificazione di alcune aree del territorio e contributi per le famiglie indigenti. Questo è prioritario, è il primo compito. La valutazione che poi è stata fatta è quella di non lasciare comunque, ripeto, ai bambini e agli anziani una città triste. Quindi sicuramente ci saranno in primis le spese a favore delle categorie disagiate. Ma non solo questo. Nella famosa variazione approvata in Consiglio Comunale dalla maggioranza consigliare sono previsti interventi importanti di riqualificazione del territorio. Penso all'ammodernamento di via Litorania che si attendeva da anni e che finalmente potrà vedere la luce. Ma penso anche all'allargamento della strada di villa che porta alla villa delle Ginestre, quindi alla villa che ha ospitato Giacomo Leopardi. Tant'anni sono stati fatti soltanto proclami e annunci e sono stati finalmente previsti dei fondi per l'allargamento di quella strada e il recupero di un sito importante dal punto di vista culturale. Quindi chi come me oggi rappresenta alla delega alla cultura ritiene questo tipo di iniziativa assolutamente fondamentale per il rilancio anche del territorio in ottica economica, turistica e culturale.